Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale della nostra scuola. Io sono Lorenzo e siamo della settima classe. Oggi parleremo di Edmodo. Chiedendo a Eleonora, Simona e Jennifer un po' che cos'è e che cosa ne pensano. Eleonora, tu puoi spiegare al pubblico che cos'è Edmodo? È una piattaforma scolastica che io per esempio utilizzo per postare i lavori svolti durante l'anno. Simona, tu per che cosa la utilizzi e cosa ne pensi? Allora, io la utilizzo per lo stesso motivo di Eleonora e sono anche molto entusiasta di questa piattaforma perché possiamo comunicare con i professori e loro ci danno anche dei premi. Jennifer, è vero che ci sono delle medaglie su Edmodo? Se sì, spiega che cosa sono. Sì, ci sono delle medaglie che si chiamano beige e questi beige ci danno i professori quando compiamo un lavoro bene, rispettiamo i compiti, li facciamo normalmente e poi dopo aver ricevuto 5 medaglie alla fine dell'anno la professoressa ci dà un voto in più. Ecco, adesso la trasmissione è finita, ci risentiamo la prossima volta. Se vi è piaciuto lasciate un like e scriveteci nei commenti che argomento volete sentire la prossima volta. Grazie. 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 Grazie.